E' arrivata una nuova vittoria per il principe Harry nella sua crociata contro la stampa scandalistica britannica, destinata ad andare avanti ancora a lungo nei tribunali del Regno Unito. Il secondo genito di Re Carlo III ha chiuso tramite i suoi agguerriti avvocati la battaglia legale con le Mirror Group Newspapers, mettendo a segno il secondo successo contro il gruppo editoriale del Mirror, dopo quello di dicembre quando si era visto dare ragione su parte delle accuse di violazione della privacy, rispetto ad alcuni articoli contenenti dettagli ottenuti tramite il ricorso sistematico alle intercettazioni telefoniche, imputate nel corso degli anni al tabloid sia da lui sia da altre celebrità. Allora il Duca di Sussex aveva ottenuto, secondo il verdetto dell'Alta Corte di Londra, un indennizio pari a 140.600 sterline, ma il suo legale ha annunciato nello stesso tribunale il pagamento di una non precisata somma sostanziosa da parte di MGN, in base stavolta a un accordo extragiudiziale per tutti gli articoli ritenuti lesivi al centro della causa, tale da evitare altri contenziosi.